Sì, bravo. E quando ci arriviamo al confine? Sono a sega io. C'è avuto un incidente, dimmi. Ho uscito cose più importanti della macchina, capito? Senti, lascia perdere cose importanti e tu non sei buona a fare nemmeno quelle normali. Fammi finì. Ma guarda lì come mancia! Ricordati, Mau, bisogna essere come pesci nell'acqua. Confondersi fra la gente comune. Confondisi, ma mi vedi sempre un malato di me. Poi dove vai, oh? Ci vai in Austria. Due, ci siamo. E poi è il paese democratico. Democratio? Ma se c'è nato lì tre in Austria, oh! Vai, 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 vai. Che faccio? Mi sembrano dei tipi un po' sospetti. Cazzo, ma, di cazzo, ma! Vai, vai! Ma che si fa? Si smettisola, eh? Senti, la situazione è lì come... Ma qui c'è un sole spacca di pietro. Si sta bevendo qualcosa e si pensa ad andare male. Perché sono scappati? Sembrerebbe che i tre ragazzi hanno fatto una dichiarazione... Confusa. Tre coglioni. Appisa. Continua a pigliarci per il culo peso? No! A dagliarmi il sole. C'è!